Vitri Frigo Arena, palestra del liceo Marconi al campus scolastico e alberghiero Santa Marta. In questi tre luoghi della città di Pesaro comincerà da venerdì 18 dicembre lo screening di massa voluto dalla regione Marche che permetterà di sottoporre a tamponi rapidi oltre 800.000 marchigiani. Sono 30.000 quelli che si auspicano di processare a Pesaro per un test che è gratuito, volontario e rapido. A differenza del tampone molecolare, il risultato sarà riscontrabile in circa un quarto d'ora. A Pesaro tamponi di massa dal 18 al 23 dicembre. Si parte infatti con le città capoluogo di provincia, mentre a gennaio lo screening si sposterà negli altri territori regionali. Non occorrerà prenotarsi, ci si presenterà nei tre luoghi cittadini indicati, si compilerà un modulo scaricabile dal sito della regione Marche o che verrà distribuito in loco dai volontari, dopodiché ci si metterà in fila per sottoporsi al test rinofaringeo. Resta da capire di che portata saranno le code e i tempi di attesa. Per chi risulterà negativo al test, l'esame si riterrà chiuso. Per i casi positivi invece si rimane sul posto, si viene subito sottoposti a tampone molecolare e in attesa del risultato si entra in isolamento domiciliare. Non potranno effettuare i test i bambini sotto i sei anni, chi ha già avuto il covid, chi mostra sintomatologie in corso e chi effettua regolarmente test per motivi professionali. I tamponi di massa verranno incanalati in base alla residenza. Al Santa Marta si recheranno infatti residenti di Centromare, Porto, Muraglia e Montegranaro. Alla Vitrifrigo Arena quelli di Soria, Tombaccia, Torraccia, Vismara, Cattabrighe, San Bartolo, Borgo Santa Maria, Case Bruciate, Villa Fastigi e Villa Ceccolini. Al campus andranno invece residenti di Pantano, Cinque Torri, Celletta, Santa Veneranda, Villa San Martino, Novilara, Candelara e Monte Ciccardo. Il campus sarà anche dedicato a tutte le persone con disabilità a prescindere dal quartiere di residenza.